Sì, sì, sì Are you ready, Boots? Start walking. Cos'è stato? Ci hanno scoperto. Ci penso io. Ah no, niente, era solo un gallo canterino. Scusa un attimo, vado un attimo a cambiarmi e a sistemare i miei capelli. C'è un puliscito, eh? Stai bene con questa nuova taglia di capelli? Andiamo! Iniziamo! Come iniziamo! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quanto è tempo di puniscire? Abbiamo a uccidere uno. Andiamo. Fiumi di parole, fiumi di parole trano... Ogurro! Puniscitore? Il puniscitore ti puniscerà. Questa è giù di traduzia. È vero, io sono cattivo. Ma tu lavori per un uomo molto più cattivo di... Ma cos'ha? Puniscitore! No, puniscitore! Io non posso ucciderti. Io non posso ucciderti. No, puniscitore! 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione